La ginnastica ritmica è la mia passione fin da quando ero piccola, già dal mio primo giorno in palestra ho capito subito che questo sport era tutto e ancora adesso mi piace tutto di questo sport. È faticoso il lavoro, la fatica si sentono ma poi le soddisfazioni ti ripagano in tutti gli sforzi. Lavorare in squadra così è un'esperienza nuova. È veramente stupendo ma allo stesso tempo è veramente difficile perché comunque devi capire quello che pensano le altre ragazze mentre stai pensando a quello che devi fare tu, devi trovare questa intesa. Ciao, sono Valeria, istruttrice di ginnastica ritmica presso la Casa dei Sport. Oggi terrò compagnia ai più piccoli attraverso degli esercizi di ginnastica ritmica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.